Musica Gentili telespettatori, buongiorno dallo stadio Canada Cioffi di Cervinara sta per andare in onda la finale, i quarti finali del campionato di un Ores regionale da affrontarsi saranno la squadra del Vitamarra e quella dell'Audac Cervinara diamo la lettura delle due formazioni, iniziando dagli ospiti si schierano con Pauano, Collaro e Zaccaria Nanna, Savino, Iuliano, Cherillo, Ruio, Caruso, Ascione e Cirillo in banchina Morante, Cefarano, Nocerino, Guancia, Passerini, Sperandeo risponde la formazione dell'AUC Cervinara con Porreca, Clemente, Orfanos, Mercaldo, Marro e Ruggero Papa, Giordano, Caserta, Crisci, Grimaldi in banchina Montaldo, Casale, Covino, Girardi, Attili, Casale Raucci, De Balzo, Ragucci il allenatore Indro Criscuolo � Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!